ben ritrovati agli amici di studio 7 tv un nuovo appuntamento e anche una nuova un nuovo look possiamo dire per a tutto volley e abbiamo il piacere di cominciare con a tutto volley con la cbf come di consueto ma quest'oggi avremo anche altre società quindi restate con noi poi per il proseguo naturalmente ma passiamo subito ad andare a conoscere la nostra ospite e l'abbiamo annunciata forse in qualche post sui social ve la facciamo subito conoscere benvenuta asia bonelli la palleggiatrice della cbf grazie per essere qui asia buonasera a tutti e grazie a voi allora noi come di consueto siamo abbastanza curiosi te l'abbiamo detto anche a telecamere spente ci vorremmo fare un po i fattarelli tuoi fuori dal campo perché in campo ti abbiamo vista e abbiamo apprezzato le tue doti sportive veramente molto importanti che hanno dato una grande mano proprio anche all'ultima partita che la cbf ha giocato in quel di marignano quello sarà un argomento che andremo a trattare tra non molto parliamo di asia parliamo di te ma allora niente io io ho iniziato a giocare a pallavolo da piccolissima ecco penso che la passione è nata un po un po così all'improvviso inizialmente non c'è stato una causa o qualche amica o amico che ti ha coinvolto nel giocare al voli magari anziché un altro sport ma io in realtà ho iniziato a nuotare inizialmente e non mi piaceva molto quindi dovevo trovare qualcos'altro e diciamo che appunto con amiche e compagni di classe siamo andate tutte in palestra a giocare a pallavolo e piano piano diciamo mi è piaciuto sempre di più e è una passione che mi sono portata dietro per anni quindi niente andata un po così diciamo che Orago è stata un po quella che ti ha lanciato poi nel mondo del volo e da lì cosa è successo tante società campionate importanti in serie a e se non sbaglio anche una presenza under 16 nazionale o mi sbaglio? Sì 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 giusto e sì a Orago è stato diciamo il mio primo anno di pallavolo di alto livello e mi ha cresciuta molto ed è stato il momento in cui ho capito veramente che mi sarebbe piaciuto continuare in questo mondo e niente è stato il mio primo punto di partenza e quindi nulla poi dopo sono andata avanti ho finito il giovanile e mi hanno chiamato varie squadre ho fatto un po di a due anche un po da uno e quindi niente d'ora sono qui quindi così e sei qui potrei dire alla corte di coach saia che conosci benissimo perché è stato anche il tuo coach nella passata stagione quella stagione importante della promozione in a uno dell'ITAS Trentino Sì la scorsa stagione è stata una stagione molto importante per me è stata una stagione in cui ho preso in mano veramente una squadra in a due e sì ho avuto Stefano e quindi lui mi ha aiutato molto a crescere e niente è stata una stagione molto importante finita con una vittoria del campionato quindi non poteva andare meglio e sono molto contenta come è andata l'anno scorso è stata una stagione veramente che mi porto dietro con tanti bei ricordi e niente quindi ora siamo qua siamo qua entrambi io e Stefano Adesso siete qua e domenica scorsa bellissima vittoria in quel di San Giovanni che è stato un po' un ritorno non solo per te ma anche per Stefano Saia che ha ritrovato la sua San Giovanni in Marignano è uscito vincitore come si sperava fortunatamente però ha lasciato tanti tanti amici Sì è stata una bella partita quella di San Giovanni ed è sempre bello tornare lì anche io diciamo che ero un ex di turno quindi è stato bello tornare in un posto in cui sono stata bene e infatti è stata bellissima l'accoglienza anche come mi hanno trattata al momento del mio arrivo quindi è stato molto bello però è stato ancora più bello appunto riuscire a portarci a casa la vittoria contro una squadra comunque ostica e che sapevamo che poteva metterci in grande difficoltà come lo ha fatto alla fine nei primi due set però siamo riusciti a imporre il nostro gioco e quindi sono molto contenta di come la squadra ha reagito alle difficoltà e come abbiamo portato a casa la partita Possiamo dire sicuramente una squadra che nel tempo in queste ultime giornate è andata in crescendo quello che si aspettava coach, quello che si aspettava la società ma quello che vi aspettavate soprattutto voi che avete cominciato a fare molto più gioco e vi siete conosciute meglio ecco in campo forse fuori campo era già fatta ma in campo mancava quel là Sì, diciamo che siamo una squadra che fin dai primi giorni si è trovata molto bene a livello di gruppo sia soprattutto fuori dal campo ovviamente in campo essendo una squadra nuova ci vuole sempre un po' di tempo per trovarsi poi soprattutto per me che comunque devo trovare i palloni giusti per tutti e quindi ci vuole tempo per trovare la giusta intesa quindi sì, sono contenta che la squadra piano piano stia andando in crescita e ci vedo molto più serene, molto più convinte in campo e soprattutto siamo una squadra che non molla e che ci crede fino alla fine, questo è l'importante Questo sicuramente è l'importante per voi in primis e poi anche per la società che quest'anno veramente ha investito nonostante un passato già in A1 si può sempre fare di meglio e voi lo state facendo e cosa succederà invece domenica prossima? Arriva Costa Volpino, una squadra, non guardiamo la classifica ovviamente perché è ancora un po' presto anche per loro sicuramente, una squadra che però ha perso al tie break con Mondovì un'altra partita combattuta e voi Mondovì l'avete già affrontata Sì, domenica giochiamo con Costa Volpino, è una squadra neopromossa ma questo non vuol dire niente perché in questo campionato tutte le squadre sono toste e non possiamo sottovalutare nessuno e come appunto ha già dimostrato ha fatto tie break con Mondovì che è una squadra di altissimo livello quindi sarà importante lavorare bene questa settimana in palestra per arrivare pronte al meglio domenica la partita Bene, sicuramente noi saremo presenti come di consuetudine per seguirvi sia nelle dirette esterne ma anche nelle cronache interne per questo importante match Asia, l'ultima domanda, al di fuori del campo quali sono gli hobby di Asia Bonelli? Ma allora, la domanda un po' non so Infatti l'abbiamo fatta all'ultimo proprio per questo perché di solito chi la lettura, chi lo studio chi anche sport, palestra fuori dal campo, magari ne fate già tanto, forse non sarà il caso, non lo so Ma allora, sicuramente il mondo dello sport è il mondo che preferisco ovviamente e studio anche scienze motorie quindi diciamo il mio ambiente Sulla lettura non sono molto afferrata, mi piace molto guardare film e serie tv e del resto mi piace molto per esempio la fotografia, queste cose qua, mi piace molto Ecco, abbiamo trovato un appassionato di fotografia che è molto interessante perché comunque è un direi sport tra virgolette particolare ma molto molto importante Noi per il momento ci lasciamo qui, Asia abbiamo chiesto qualcosina, non più di tanto perché abbiamo visto molto in campo quindi siamo più che soddisfatti, ovviamente ti auguriamo di poter fare sempre meglio, di poter proseguire e dare questo là veramente alla CBF che merita e forza CBF Grazie Grazie ad Asia Bonelli, grazie per essere stata con noi, ovviamente a lei e a tutta la squadra auguriamo un buon proseguo di campionato sempre in crescendo CBF Balducci a Carre Macerata che non finirà mai di stupirci e ve lo ricordiamo anche nelle dirette esterne su Studio 7 TV e le telecronache ogni settimana anche delle partite casalinghe un buon proseguo delle nostre trasmissioni con a tutto voli e con la programmazione di Studio 7 TV anche da Mario Di Iorio Ben ritrovati amici di Studio 7 TV, un saluto anche da Angelica Marini e proseguiamo con il nostro format a tutto voli oggi abbiamo con noi un ospite molto speciale che abbiamo avuto modo di seguire diverse volte a vari eventi sportivi oggi finalmente l'abbiamo qui con noi e ora ve lo presento il presidente Riccardo Minucci della Zurra Volley eccoci qui Buonasera, buonasera Angelica, buonasera a tutto il pubblico che ci sta seguendo Buonasera a te allora vorrei iniziare questa intervista chiedendoti subito che c'è una novità in vista beh diciamo che c'è una nuova stagione che si è appena aperta come noi sappiamo quindi nuova location, nuove novità in generale se ne vuoi parlare Riccardo assolutamente sì, con piacere è un progetto che è iniziato l'anno scorso e che vuole raccogliere nel concetto che abbiamo a livello pallavolistico due realtà che sono due realtà importanti del territorio fermano da una parte Monte Urano, Monte Urano Volley dall'altra al bacino di Sant'Elpidio a Mare con Emmont Volley e si è costruita questa sinergia attorno al nome Azzurra Volley un nome evocativo perché sotto legida della maglia azzurra che tra l'altro corrisponde anche ai colori sociali li vedete qui alle mie spalle insomma con le ragazze e la loro maglia bianco-azzurre si ricorda e comunque vuole richiamare un periodo d'oro della pallavolo del territorio in cui a nome Azzurra Volley Casette Dete ha militato per ben 13 anni pensate in Serie B1 vincendo per ben due volte il campionato ma non potendo iscriversi poi alla 2 per ragioni economiche e d'altra natura ecco da alcuni anni quella squadra, quella società non esiste più però si è presentata l'occasione con questa sinergia tra Monte Urano e Sant'Elpidio di poter restituire quel marchio, di poter richiamarci Azzurra Volley e allora ecco l'idea di voler giocare a Casette Dete ecco l'idea di voler riabbracciare tutto il comprensorio è fare un progetto che possa funzionare partendo dal mini volley quindi dai più piccoli, dai settori scolastici su su fino alla prima squadra che quest'anno disputa il campionato di Serie C l'anno scorso aveva disputato il campionato di Serie B2 un progetto appunto iniziato già l'anno scorso con un'idea legata soprattutto alle giovani quindi pallavolo femminile quindi soprattutto ragazze molto giovani neanche ventenni in prima squadra quindi under 20, under 19 prospetti molto interessanti che l'anno scorso in un campionato nazionale come quello di B2 hanno un po' faticato ma è stata una palestra per crescere quest'anno con questa Serie C si propone di essere protagonista insomma quindi ci proviamo ecco questa è un po' l'idea Certo, Serie C, girone A2 giusto? Girone A, sono due i gironi infatti c'è il girone A e il girone B ci hanno inserito nel girone A che è un girone un po' strano perché come dicevamo Fuorionda è un girone che racchiude formazioni del pesarese quindi ci troviamo davanti a trasferte abbastanza lunghe e dispendiose ad Urbino, San Costanzo, Bottega insomma ci sono squadre distanti e alcune squadre del comprensorio del territorio come Fermo come anche lì il consorzio tra Amandola e San Benedetto del Tronto un consorzio piuttosto strano che mette insieme i monti più profondi Sibillini e il mare però è un po' l'idea che ormai sta prendendo piede quella di riuscire a fare delle sinergie vincenti perché portare avanti l'idea di sport di squadra oggi non è semplice sviluppare un settore giovanile efficace e di livello non è facile bisogna unire le forze purtroppo i piccoli comuni fanno sempre più difficoltà dovuta ai tanti motivi di crisi che viviamo oggigiorno quindi sicuramente un'arma in più può essere la collaborazione Bene, penso che sia la cosa più giusta da fare Comunque entriamo un po' nel vivo del campionato sappiamo che c'è stata una vittoria ben nota, giusto? Contro? Assolutamente, abbiamo vinto 3-0 contro Fida proprio lo scorso sabato una vittoria di cui avevamo bisogno soprattutto una vittoria così rotonda la prima vittoria in casa, il campionato è iniziato da neanche un mese dopo alcuni mesi di preparazione abbiamo iniziato i primi allenamenti a fine agosto, inizio settembre come da prassi il campionato è iniziato a metà ottobre e nelle prime uscite ovviamente un gruppo che comunque giovane che si sta amalgamando ha incontrato qualche piccola difficoltà per cui sono arrivati però i primi tie break una sconfitta la prima in casa al tie break quindi un punto preso comunque visto che nel volley anche col tie break comunque mal che vada un punto lo si porta a casa una sconfitta più netta in quel di Urbino alla seconda di campionato contro quella che in questo momento è la capolista quindi si sta dimostrando essere senza dubbio formazione di assoluto spessore e poi la terza di campionato contro questo consorzio Amandola San Benedetto altra squadra molto quotata terminata 3-2 per le ospiti e anche lì insomma decisa da un pallone poi la vittoria a San Costanzo sempre al tie break e adesso finalmente 3-0 con Offida che in qualche maniera sta coronando un percorso di crescita che coach Tegazzi e tutte le ragazze stanno seguendo di settimana in settimana secondo noi le potenzialità di questa squadra ci sono ci sono e sono ragazze su cui crediamo molto io per primo in qualità di presidente accanto agli altri presidenti delle società che mi sono accanto ovvero Monte Urano ed Emmont abbiamo piena fiducia in tutto il gruppo abbiamo piena fiducia nell'allenatore quindi siamo certi che possano fare un bel percorso e anche qui c'è uguale un lavoro di squadra assolutamente il bello del volley è quello rispetto ad altri sport che sicuramente sono affascinati legati all'atletica, al tennis o altri sport diciamo solisti il bello del volley è riuscire a lavorare di squadra il singolo hai noi in uno sport come il volley dove poi è lo sport dei tre tocchi cioè già fossimo nel calcio dove ci può essere il maradona della situazione che prende palla e si dribbla la squadra avversaria e va a gol nel nostro caso è impossibile perché puoi soltanto fare un tocco e devi comunque coinvolgere i compagni e quindi questo significa dover lavorare di gruppo, di squadra solo il lavoro di squadra dà i suoi frutti personalmente è il motivo per cui amo molto la palla a volo e cioè il fatto di riuscire a raggiungere grandi obiettivi solo attraverso un bel gioco di squadra Giustamente Bene, sabato giocherete nuovamente in casa contro Bottega Volley quali sono le vostre aspettative per questa partita e come vi state preparando? Bottega è indubbiamente anch'essa una buona squadra attrezzata come del resto quelle che abbiamo incontrato fin qui l'obiettivo è senza dubbio poter continuare sul solco che abbiamo tracciato quindi non ci nascondiamo insomma sarebbe importante poter mettere in cascina altri punti, altro fieno perché servono in questo momento la classifica recita sette punti abbiamo bisogno di proseguire per ambire le posizioni se non proprio di testa comunque le zone di parte di pool promozione playoff per la seconda fase indubbiamente giocando in casa ci sarà anche l'apporto del pubblico che è un altro fattore importante che tenderei a sottolineare perché ha riportato tutto quell'entusiasmo che a casette dette c'era quando c'era la vecchia B1 e quindi forti di questo tifo, forti di tutto l'ambiente l'obiettivo per cui si sta lavorando ovviamente è quello di poter vincere senza nulla togliere appunto una squadra come Bottega che verrà per fare la sua partita però indubbiamente da parte nostra come Azzurra Volley c'è tutta l'intenzione di voler replicare quanto visto controfida insomma sarebbe l'ideale poi vediamo quello che dirà il campo Allora parliamo adesso di Serie A perché tra l'altro il nostro presidente si occupa anche dell'ufficio stampa della Juasa Batteri di Grotta Zolina ce ne vorresti parlare? Ebbene sì, ebbene sì sono ormai da diverso tempo, da diversi anni membro dell'ufficio stampa siamo diversi professionisti che seguono da vicino le vicende di una delle realtà più importanti del nostro territorio perché abbiamo parlato dell'Azzurra Volley che si muove diciamo nel sottobosco e anche cerca di far crescere nuovi talenti ma nel settore maschile la società di riferimento è indubbiamente la MG Scuola Palla a Volo ovvero Juasa Batteri Grotta Zolina che è la formazione che disputa il campionato di Serie A2 crede in banca e che sta pian pianino portando lustro a tutto il territorio del Fermano grazie ai risultati che di anno in anno sono sempre più promettenti e che quest'anno ha visto anzitutto una squadra caparbia e che ha un roster di assoluto livello, di assoluta qualità e lo sta dimostrando in campo perché nelle prime cinque uscite ci sono arrivate altrettante vittorie un solo punto lasciato per strada nella vittoria Reggio Emilia per 3-2 e dobbiamo dire che anche nelle ultime uscite ecco l'ultima proprio in terra di Puglia contro Castellana Grotta e la vittoria per 3-1 di domenica scorsa sono partite che hanno confermato la predisposizione per i ragazzi di Cocciortensi a sapere anche soffrire a sapere attraversare i momenti negativi che ci sono all'interno di un match e trovare il bandolo della matassa per venirne fuori sugli scudi chiaramente ci sono un po' tutti i ragazzi che fanno parte ormai del gruppo titolare quindi dai centrali Mattia e Canella fino agli schiacciatori che danno il loro contributo Michele Fedrizzi in primis ma anche Cattaneo insomma sono davvero ragazzi di altissimo livello e qualità e poi su tutti c'è il terminale offensivo numero uno ovvero Rasmus Bröning il danese, l'oppostone danese che è in grado di, se lo vedi dal vivo insomma di tirare delle bordate incredibili già da livello diciamo così di Superlega ecco sicuramente un bell'inizio per la Juasa Battery sabato sarà sicuramente una grande sfida con una società quella di Prata con cui c'è una grande amicizia sono davvero i ragazzi di Prata grandi amici e sono sfide che hanno sempre un sapore speciale insomma da una parte la Juasa Battery ci arriva da imbattuta con 5 vittorie su 5 gare disputate e anche la TN Prata di Pordenone ci arriva con lo stesso rollino di marcia nel caso dei ragazzi di Prata però due vittorie al tiebreak che fan sì che loro siano ad un punto dalla Juasa Battery tra l'altro abbiamo raccolto un'intervista in questi giorni proprio con uno dei protagonisti assoluti Rasmus Bröning appunto l'opposto della Juasa Battery insieme a coach Massimiliano Ortenzi tornati dalla Puglia ci hanno raccontato un attimo come hanno affrontato i giorni subito dopo la gara e quindi un po' le attività di scarico e poi anche come si stanno preparando per questa super sfida di sabato che metterà di fronte le due formazioni ancora imbattute di questa serie a due io Angelica ti rubo un attimo il salottino perché abbiamo questa registrazione ti lascio pure fare con le voci dei protagonisti quindi io lancerei il servizio e poi ti lascerei ai saluti ringraziandovi ovviamente per lo spazio e per aver potuto prendere parte a questa intervista è stato un momento davvero piacevole e allora lo lanciamo lanciamo il servizio bye nell'ultima gara la squadra secondo me ha approcciato molto bene la partita io ho detto insomma che la parte più importante sarebbe stata quella di di iniziare nel mondo giusto iniziare col piede giusto è complice anche insomma il fatto che Castellana ha fatto qualche errore di troppo siamo entrati subito bene dentro al match poi nel secondo set abbiamo avuto secondo me un momento dove abbiamo smesso un po' di ragionare di ragionare di squadra quando Castellana è tornata fuori sapevamo che sarebbe successo hanno iniziato a battere più forte hanno iniziato a metterci un pochettino in difficoltà noi siamo un po' innervositi e disuniti quindi abbiamo fatto qualche errore in più al servizio abbiamo forzato tante situazioni di attacco di palla alta dove magari potevamo gestire un pochettino in maniera diversa e abbiamo perso quel sette vantaggi poi però nel terzo e quarto quando siamo tornati nel controllo insomma nel controllo della partita con battuta con attacco dove abbiamo preso anche qualche bel muro la partita l'abbiamo gestita anche abbastanza anche abbastanza agevolmente quindi direi che non possiamo chiedere meglio di così mi piace che E' un'unità più grande, non solo i 14 giocatori sul campo, è il gioco che vuole venire contro l'altra squadra. E' una squadra che per certi versi ci siamo accompagnati un po' a vicenda, dall'A3 dove abbiamo giocato contro le partite più importanti, alla scorsa stagione dove abbiamo fatto un percorso molto simile. Affrontiamo una squadra rinnovata, una squadra che gioca sicuramente una buonissima pallavolo, perché con un infante e papi che sono due grandissimi allenatori non potrebbe essere altrimenti. Una squadra che stimiamo, una squadra che rispettiamo e contro la quale sicuramente dovremmo fare una gran partita. Loro hanno delle buone individualità, hanno la capacità di saper alleggere tante situazioni di gioco in modo positivo. Lucconi viene da un anno di stop e sta dimostrando in questo inizio di campionato di voler fare un campionato protagonista. Ma da parte nostra noi siamo consapevoli che abbiamo una squadra che quest'anno è importante, una squadra che sa giocare a pallavolo, una squadra che può dare fastidio a tutti. Ma soprattutto se in casa il pubblico è quello delle ultime due partite, quella spinta lì è qualcosa che può dare ai ragazzi veramente un valore aggiunto per riuscire a capovolgere le situazioni difficili e a fare alcuni punti importanti da partita. Quindi siamo fiduciosi e ci approcciamo a questa partita qua con grande entusiasmo come non potrebbe essere altrimenti. Quindi questo settore, noi stiamo contro la Prata, uno dei nostri rivali, che sono stati rivali da A3. E io penso che è i miei quei abbiamo più divertiti, perché sono i miei che vogliamo vincere la maggior parte. Quando hai questa rivalità, penso che è in cui puoi spostare i 10% di più. e credo che il gioco si tratta di chi lo vuole più. Questa settimana il gioco sarà deciso di chi lo vuole più. Ho spero che la nostra squadra sarà insieme come un'altra squadra e giocare un'ottima gioco a settimana. Ho spero di prendere questo gioco con noi. Il gioco della domenica però ci aspettiamo che sabato sera tutti quanti quelli che ci hanno sostenuto nelle ultime due partite in casa siano presenti, siano calorosi e rumorosi perché i ragazzi hanno bisogno di avere quella spinta. Secondo me se riusciamo a ricreare quell'entusiasmo lì potremmo fare veramente qualcosa di importante. Bene, abbiamo visto anche il servizio della Ioasa Battery e per oggi è tutto, si conclude qui questa puntata di A Tutto Volley vi aspettiamo presto e non smettete di seguirci. Un saluto da Angeli Camarini.